C'era una considerazione che Tonino voleva fare prima a proposito della prima esperienza di Ciro, noi volentieri lo coinvolgiamo in questa chiacchierata, che cosa volevi, che cosa ti è venuto in mente e che volevi? Mi è venuto in mente che tutti siamo l'artigianato, chi si barava a fare legname, chi barava a far rire, chi scarpare, barbire, all'epoca non ci stavano fatte che si doveva assicurare a questo guaglione, già il padre e la mamma lo mandavano perché loro avevano una pacienza per far barare, ci vorrebbero mesi, anni per far barare, allora noi siamo decaduti per il fatto dell'artigianato, l'italiano pensa che sta decadendo per il fatto che si fanno questi contributi, per un ragazzo che va a barare su un mestiere non dovrebbe pagare niente, dovrebbe dare, anzi dovrebbe essere un'assicurazione più di meno, se si fa male a un'unità, se si fa male a una cosa allora deve intervenire un'assicurazione, ma non ha paura di un padrone che va a fare i contributi per il resto guaglio, c'è una pacienza che tiene. Una cosa tra l'altro di grande attualità, viste le drammatiche vicende che coinvolgono alcuni di questi giovani impegnati negli stage, dove non ci sono nessun tipo di copertura di assicurazione, spesso vengono sfruttati e mi viene in mente il fatto che oggi sarebbe improponibile a un bambino di 7 anni metterlo in una bottega, le vietate ci arresterebbero pure a pensare a una cosa del genere. Allora certamente una via di mezzo, le giuste tutele, il giusto avvio alla professione, ma soprattutto in alcuni settori che si stanno perdendo, forse non tanto il caso dei barbieri, dei parrucchieri perché è una professione che non scomparirà mai, però penso come dicevi giustamente tu Tonino ai faregnami, ai fabbri, ai calzolai e noi ci proponiamo di andare a raccogliere anche la testimonianza di questi ultimi calzolai piuttosto che non so altre 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 attività e purtroppo è purtroppo invece bisogna fare bisogna fare bisogna fare come si fanno una macchiatura come si fanno questa trasmissione di conoscenze e anche di saggezza di questi vecchi foriani che magari si riunivano per discutere dopo il lavoro, si parlava, da questo punto di vista il barbiere come luogo di incontro e di socializzazione è sicuramente cambiato e questo forse è dovuto anche alla fretta che ci porta, se vediamo due persone che stanno in un barbiera, adesso non si può fare per la questione della pandemia. Già da me nel 79 il mio negozio è stato sempre quasi sempre libero, ho cercato sempre di non far affluire le persone ad acchiacchierare, se si dovevano acchiacchierare è perché dovevano servirsi, ma dopo essersi servito dovevano andare via, era difficile che restavano per il tipo di educazione che avevo dato al negozio, perché acchiacchierare sempre, delle volte tu passavi avere un negozio che le persone che ci stavano alle 9 del mattino ci stavano anche a luna e così viceversa nel pomeriggio, erano sempre le stesse ed invece questo può essere un po' antipatico per quell'epoca, adesso non ci si ferma più perché nessuno più vuole fermarsi, addirittura c'è la prenotazione adesso, comunque mi appoggio al discorso di Donin è così, allora era tutto più libero, però ci si imparava di più, oggi è costoso avere un ragazzo e persino si rischia di essere poi denunciato eccetera eccetera, io ho avuto tanti collaboratori, chi è stato assicurato e chi no, perché prima non si poteva, poi piano piano lo richiedevano loro e tu che fai, non facevi e poi magari dopo averlo fatto ti facevano altre cose e insomma stavi sempre con la tensione, con la paura, non eri rilassato, allora ci pendevi il tempo per impararli, li pagavi, mantenevi tutte le assicurazioni e poi ti restavi, solo la gratitudine, però in effetti non è piacevole lavorare su questa tensione, oggi non si può fare più niente perché ci sono le scuole, si va prima alla scuola, ci si fanno i corsi, ci si forma e poi piano piano c'è questo vantaggio che tu puoi pagare di meno perché loro fanno scuola e pratica, fanno tutte queste cose qui e niente. Parlavi dell'esperienza a Regine Isabella, so che non solo per chi è stato direttamente a contatto con questi prestigiosi ospiti di Regine Isabella ma anche per chi come te ha svolto la professione di parrucchiere, sicuramente ha avuto importanti esperienze, tu qualche volta me le racconti e sono belle da riproporre anche agli amici che ci seguono, così come le esperienze ai Posedono, questi grandi eventi e quando c'era la necessità di affidarsi a mani sicure tu venivi subito chiamato, quindi raccontaci di alcuni di questi episodi che sono davvero belli. Allora, già stando a Regine Isabella, ma già all'H- c'era un altro livello sociale, di clientela che venivano, persino io ricordo Barnard, quello che fece la prima operazione Al Cuore, poi tutti gli attori, Walter Chiari, Guto Ignazzi, eccetera eccetera, che venivano, li vedevi passeggiare per l'acqua meno, magari qualcuno si accingeva a venire anche dai fanghi, veniva con l'accappatoio nel negozio a farsi la barba, perché le terme stavano a confine quasi con il negozio, si passavano all'Indie con il Pignatiello e venivano nel cappatoio a farsi la barba. Ci sono vari giocatori, Angelo Sormani, Facchi, tutti quell'epoca, e si cresce man mano, si cresce. Poi lì stavo ancora da Ciro all'acca meno, che è poi proiettato per proseguire a Regine Isabella. E poi a Regine Isabella veniva anche Walton, Walton che veniva a Regine Isabella, e poi altri magari non ricordo i nomi perché mi hanno seguito anche qui nel negozio, perché Walton veniva anche qui, avendomi conosciuto a Regine Isabella mi ha seguito anche qua. E tante belle soddisfazioni, tante cose, perché quello ti arricchisce e ti fa lavorare in un altro modo. Raccontaci di questi concerti con Cocciante, quelle a stagione così entusiasmante, che forse diciamo molti... Era al Necombo. Al Necombo, poi anche... Al Necombo, sì, tutti i concerti con Cocciante, Massimo Ranieri, c'era Carusone, Peppino di Capri, tutte queste qua che io magari qualche... dietro a Regine Isabella partecipavo a questi concerti andando a vedere, ma non ero in prima scena, si raccontava nel negozio questo Livio, lui ma al mattino si chiacchierava con le signore clienti che aveva passato una bella serata e tutto era un livello di crescita, quando si diceva bella gente, io allora avevo 20 anni, 22 anni, bella gente, ma che significa bella gente? Io mi domandavo, perché bella gente l'ho capito con ritardo, che era una persona educata, rispettosa e che culturalmente a un livello che tu potevi starci, non era tutto un miscuglio di... allora quando si diceva bella gente, adesso basta che si pronuncia bella gente, anche noi siamo bella gente, perché siamo persone oneste, pulite, ma non cafoni. proprio sabato hai avuto un cliente da Nava e ti diceva ma non si può stare a Napoli, è impossibile, c'è brutta gente proprio, brutta gente che ti circonda e tu non te ne puoi far meno, non te ne puoi allontanare, perché vivi in quella città, come tanti napoletani onesti per bene, non vogliono essere circondati da queste persone, napoletani vere, si lamentano del comportamento di questa gente, di queste persone che... Naturalmente poi insieme a Pietro Coppa che ti ringraziamo sempre per le riprese e la disponibilità andremo un po' anche a riprodurre meglio queste foto, qui sei durante il servizio militare nel 74, dove racconta? Qui alla Spezia, appena arrivato, stavo al car, stavo al car con un collega sardo, ma eravamo tutti impauriti, basta che ci guardavamo in faccia, non sembrava vero, però io ho fatto sempre il mio lavoro, anche essendo militare non ho mai lasciato le forbici e lì c'è proprio con il maestro che era calabro, di rosetto, rosato, rosato, una cosa del genere, e lui tagliava i capelli agli ufficiali e noi ai marinai, alle reclute, e è bello, bello.